L'ottantottesima adunata nazionale degli alpini che si svolse all'Aquila dal 15 al 17 maggio 2015 diventa un film reportage per conservare la memoria visiva di un evento che resterà nella storia cittadina e per tracciare un bilancio. L'elaborato multimediale della durata di 30 minuti è stato prodotto dalla sezione Abruzzo dell'Associazione Nazionale Alpini grazie all'idea di AGT Comunicazioni e Visioni Future e si intitola dalla testa ai piedi la marcia degli alpini per l'Aquila. Il resoconto sui numeri fa sorridere gli organizzatori. Nei tre giorni di adunata sono giunti nel capoluogo d'Abruzzo 52.000 alpini per un investimento complessivo di circa 2 milioni di euro. Nei giorni clou inoltre la stima è stata di 700.000 presenze dati che hanno generato un impatto economico di ricaduta stimabile in circa 35 milioni di euro. Ai nostri microfoni la soddisfazione per la ottima riuscita della durata del sottosegretario regionale Mario Mazzocca e della presidente dell'Associazione Nazionale Alpini della sezione Abruzzo Giovanni Natale. La meravigliosa riuscita della durata nazionale del maggio scorso credo che tutti gli abruzzesi hanno potuto prendere coscienza di ciò che è stato soprattutto la città dell'Aquila, gli aquilani per aver avuto modo di toccare con mano delle situazioni che soprattutto dal punto di vista psicologico probabilmente sono state molto benefiche per lo stato d'animo dei cittadini stessi. È una donata difficile fare in una città come l'Aquila però è stata una sfida, una sfida vinta. Oggi facciamo il rendiconto di quello che è stato quella grande opera e con questa pubblicazione noi vogliamo rendere onore a quanti hanno lavorato e a quanti hanno dato per questa donata.